Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa, prima di vedere questa straordinaria partita, fatemi salutare e ringraziare Alberto, Dritan, Fabrizio e Matteo, 4 nuovi abbonati alle mie video lezioni che vi ricordo trovate proprio qui su YouTube, qui sul canale, in una playlist dedicata. E ci sono pensate già più di 21 ore di video lezioni che vi attendano per soli 2,99€ al mese. Naturalmente tutti i mesi aggiungerò nuovi contenuti. Ma passiamo subito al video di oggi, una partita storica del giovanissimo Magnus Karzen. Un'idea ambiziosa giocata da Karzen per dare un po' di pepe ad un'apertura considerata posizionale. Siamo nel 2002 ed un giovanissimo Karzen incontra al torneo di Helsinki il finlandese Nisti, che è un giocatore più grande e più esperto. Sarà una bella partita, non dimenticate di like al video e partiamo. Magnus Karzen di bianco apre la partita con e4. Sam Sanisti risponde con e5. Cavallo in f3, cavallo in c6 e Karzen gioca cavallo in c3. E allora il nero con cavallo in f6 entra nella difesa dei quattro cavalli. E ora sono tre le strade più interessanti che il bianco può intraprendere. Quella più giocata al fiere in b5 è chiamata variante spagnola, proprio perché lo sviluppo dell'alfiere è simile a quello nella Rui Lopez. La seconda mossa più giocata, interessantissima, d4, la variante scozzese. Terza mossa più giocata al fiere in c4 non dà però al bianco grandi soddisfazioni. Quella più interessante è la quarta mossa più giocata, l'apertura del fianchetto, che appunto è la variante di fianchetto. E invece Karzen astutamente gioca a tre, mossa di attesa. E allora il nero apre il fianchetto con g6, d4, o stavolta veramente al fiere in c4, sono le mosse più giocate. Invece arriva alla quinta mossa il folle sacrificio di Karzen. Cavallo per pedone, col cavallo sacrificato. Allora il nero ricattura di cavallo in e5, un cavallo per un pedone. Il compenso bisogna trovarlo perché questo non basta. E allora Karzen conquista il centro con la spinta d4. Cavallo che torna indietro in c6 viene attaccato di nuovo con d5. Pensate, il computer in questa posizione suggerisce al nero di lasciare il pezzo in presa, quindi di rendere il pezzo per giocare subito al fiere in g7 e trovare anche lui delle chance in questa partita. E invece il nero torna indietro col cavallo in b8. Ma cosa sarebbe successo se il cavallo si fosse mosso in e5? Guardiamolo subito e velocemente. Dopo cavallo in e5, non giocato in questa partita, arriva f4. Il cavallo è costretto a portarsi in g4. Stavolta h3 non funziona bene, ma funziona benissimo e5. Entrambi i cavalli sono in presa. Donna in e7 pare la continuazione migliore che inchioda il cavallo sul re. Ma basta giocare al fiere in e2 e il nero qui per rimanere in partita di nuovo deve accelerare questo alfiere in g7 e con il bianco che si riprende il pezzo, arrocca e mantiene comunque un leggerissimo vantaggio. Ritorniamo a noi, certo, con questa cavallo in b8 e con la successiva spinta e5 che scaccia anche il secondo cavallo. Allora il compenso per Karzen c'è come. Karzen continua addirittura con le spinte e spinge d6. Come mai controlla questa casa e7? Più che altro l'idea probabilmente è l'aggressivo sviluppo dell'alfiere in c4. E allora il nero cambia, c per d6, e per d6, donna in f6. Pedone, due volte sotto attacco. Guardate Karzen come lo difende in maniera attiva. Sviluppa il cavallo in b5 e non solo protegge il pedone, ma qui minaccia di vincere la torre. E allora il nero gioca cavallo in a6 che protegge questa casa c7, alfiere in c4, alfiere in h6, donna in e2 con scacco. E allora il re è costretto a spostarsi, re in f8 ed il nero non può più arroccare, alfiere in e3, l'idea è l'infilata micidiale. E allora alfiere per alfiere, guardate l'intuizione di Karzen che riprende di pedone. Ripresa col pedone f, sta per arrivare torre in f1 contro la donna del nero e di nuovo contro la casa f7. E allora donna in h4 con scacco. Karzen gioca g3, donna in h5. Vedete, come al solito, chi si sta difendendo cerca il cambio donne. E' un'idea particolarmente astuta, soprattutto in questa posizione. E allora Karzen sposta la donna, donna in f2, si minaccia matto in 1, donna in f5, donna in e2, donna in h5, di nuovo si propone il cambio donne. Karzen manca l'idea migliore. Qual è in questa posizione l'idea migliore? E' la spinta g4, e allora donna in h4 con scacco, re in d2, cavallo in h6 che sviluppa nuova protezione di f7, torre in a che va in f1, il re è scappato e c'è sicuramente vantaggio ed iniziativa del bianco. E allora, dopo donna in h5, donna in f2, di nuovo donna in f5 e Karzen con donna in e2, praticamente, fa una proposta di patta. Perché se adesso il nero gioca donna in h5 e patta per triplice ripetizione della posizione, Nisti invece rifiuta la patta. Pazzesco, come in poche mosse la posizione cambierà totalmente. Perché il nero gioca a cavallo in f6, arriva torre in f1 che attacca la donna, donna in h5, donna in f2, donna in f5, donna in e2, donna in e5. Attacca il pedone? Eh ma Karzen arrocca lungo per il computer. Questa posizione è più 6, come se il bianco avesse due pezzi di vantaggio. Karzen ci farà vedere come mai. E allora il nero gioca re in g7 per liberare la torre, torre in d5, attacca la donna, donna in e8, donna in d2. Guardate, si vuol dare, si vuol centralizzare la donna addirittura con tempo dando lo scacco. Torre in f8, donna in d4 con scacco. Ora attenzione, perché se il re si sposta, molto forte è questa torre in e5 che attacca la donna, con i pezzi bianchi che diventano tutti più attivi. E allora fa bene il nero a giocare f6, che non solo fa da scudo a re, ma che controlla anche col pedone questa casa e5, e allora arriva g4. Protetto dalla donna si minaccia l'amicidiale g5, il nero gioca b6 per liberare l'alfiere e arriva g5. Cavallo in f5 attacca la donna, ma qui la cattura di pedone in f6 arriva con scacco, la torre ricattura e rimane inchiodata sul re. C'è di nuovo il problema della donna sotto attacco e noi siamo arrivati al nostro quizzone. Perché, guardate, ridendo e scherzando, il nero sta giocando con due pezzi in meno, uno dei pezzi sviluppati è il cavallo sul bordo. E allora, mettete pure in pausa se volete, la domanda è cosa giochereste al posto di Karzen? Ritorniamo subito a noi, con tanti pezzi attivi e con la donna sotto attacco, sacrificio di qualità, torre in d che cattura il cavallo, la torre non può ricatturare, e quindi il nero è costretto a catturare col pedone e, guardate, micidiale, torre in g1. Come mai micidiale? Questo scacco di torre attacca il re che sta difendendo la torre in f6. Se il re si sposta, per esempio in h6, arriva il matto forzato. Donna in f4 con scacco, spinge il re in h5, donna in g5. Supportata dalla torre, direttamente scacco matto. Anche se il re si sposta indietro, prende matto, e allora il povero Nisti è costretto a sacrificare la donna. Donna in g6, torre per donna in g6 con scacco, il re ricattura per schiodare la torre, e arriva al fiere in d5. Fiere in d5 arriva con tempo perché attacca la torre, allora torre in b8 e arriva e4. Si vanno ad attaccare, come diciamo spesso, le case intorno al re, protette soltanto dal re, qui per aprire nuove linee di attacco. Allora, al fiere in b7, di nuovo la cattura di pedone arriva con scacco, ma stavolta il nero può ricatturare di torre. Donna in g4 con scacco, re in f6. Donna in h4 con scacco, re in g6. Quando si attacca non ci si fa cambiare i pezzi, e allora al fiere in c4, qual è l'idea? L'idea è l'inchiodatura micidiale al fiere in d3. E allora per controllare questa casa d3, il nero gioca cavallo in c5, ma di nuovo un pedone scaccia il cavallo, perché arriva b4, cavallo in e4, cavallo in c7. Qual è l'idea? Probabilmente, visto che questo alfiere sta proteggendo il cavallo, probabilmente l'idea è quella di giocare alfiere in b5 e fare secco anche il pedone in d7, perché naturalmente questo non può farsi cambiare, se no si perde il cavallo. Certo, questa mossa di cavallo di Karzen lascia il pedone in d6 in presa, ma è un pedone avvelenato, sbaglia Nisti che lo cattura, cavallo che cattura in d6, tatticismo finale, donna in g3 con scacco, è un attacco doppio, vince il cavallo e il nero abbandona. Quindi un'altra bella partita di un giovanissimo Karzen, a giorno d'oggi Nisti si starà mangiando le mani per non aver pattato di nero col futuro campionissimo, ma che ne sapeva all'epoca. Spero che questa partita vi sia piaciuta, come al solito se vi è piaciuta non dimenticate di like al video, più che altro non dimenticate di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie!